Testimoniare gli autentici valori dello sport è stato questo l'importante compito al quale Papa Francesco ha richiamato i giocatori di Lazio e Juventus ricevuti in Vaticano alla vigilia della finale di Coppa Italia prevista allo Stadio Olimpico di Roma. Ricordando per entrambe gli ottimi risultati raggiunti e l'amore per questi colori da parte di molti sportivi, il Pontefice ha invitato alla responsabilità nei confronti delle giovani generazioni che guardano con ammirazione i loro campioni. L'invito del Papa è stato di impegnarsi per far sì che lo sport sia un puro divertimento, un motivo di coesione tra gli sportivi e l'intera società, nonostante gli episodi di violenza che a volte si verificano negli stadi. Perciò ogni gara è una prova di equilibrio, di patronanza di sé, di osservanza delle regole. Chi col proprio comportamento sa dare prova di tutto ciò diventa un esempio per i suoi ammiratori. E' quello che auguro ad ognuno di voi, di essere testimoni di lealtà, di onestà, di concordia e di umanità. Grazie a tutti.